Musica Bentornati con l'informazione di AM Eterni Television John fa festa all'ASM per aver raggiunto il 78,45% di differenziata confermandosi il best player in Umbria soddisfatto anche l'amministratore delegato Buonfiglio per il buon risultato delle iniziative realizzate nelle scuole Vediamo il servizio Nuovo importante record fatto registrare nei comuni della provincia di Terni serviti da ASM Nel mese di settembre si è raggiunto il 78,45% globale della raccolta differenziata e ASM, riporta una nota dell'azienda di Via Capponi ha confermato il suo ruolo di best player regionale nella raccolta differenziata con un trend in costante crescita Partendo dalla 52% del 2016, prosegue la nota l'azienda è arrivata alla 77,94% nel 2023 Un passo importante verso un futuro più sostenibile che valorizza l'impegno dei cittadini, delle istituzioni locali e delle assurazioni nella raccolta differenziata Differenziamoci è il nome che abbiamo scelto per la realizzazione delle isole scarrabili turistiche afferma l'amministratrice delegata di ASM, Ediziana Buonfiglio e per il progetto con le scuole Nato per coinvolgere anche le nuove generazioni in questo percorso di responsabilità verso l'ambiente Conferire correttamente rifiuti mediante l'adozione di comportamenti virtuosi aggiunge la D significa ridurre drasticamente le discariche limitare l'inquinamento e promuovere il riuso ed il riciclo cuore dell'economia circolare senza trascurare la sperimentazione di nuove tecnologie sollecitate e sviluppata grazie all'esperienza professionale del Presidente, l'ingegnere Gabriele Ghione Aver dimenticato di menzionare i lavoratori che sia quando diluvia che nelle torri delle giornate estive garantiscono un servizio essenziale è una dimenticanza che non si può stigmatizzare i rifiuti non arrivano da soli dalle case dei cittadini e dalle aziende ai centri di raccolta così la CGL critica la mancata menzione del ruolo dei lavoratori che garantiscono il servizio nel constatare che la raccolta differenziata a Terni ha registrato un significativo aumento dal 50 al 78% in circa 8 anni il sindacato sottolinea che la raccolta porta a porta comporta maggiori carichi di lavoro e a rischi anche per la salute del personale suggerendo modifiche alla modalità di raccolta che possano anche portare a una riduzione delle tariffe per i cittadini Al via il primo stralcio dell'intervento di riqualificazione di lavori a Largo Cairoli a Terni la ditta appaltatrice si occuperà di demolire alcuni edifici post bellici e di sistemare le mura merlate c'è ancora da aspettare per conoscere il destino degli ulteriori resti archeologici emersi vediamo Largo Cairoli sarà interessato da un intervento di riqualificazione il cui primo stralcio è stato affidato all'azienda Edildomus SRL di Roccaraso per un costo di circa 250 mila euro il progetto prevede il restauro delle mura merlate e la demolizione di edifici post bellici i lavori della durata di circa 150 giorni dovrebbero concludersi a marzo 2025 salvo imprevisti il costo complessivo del piano periferie è di quasi 2 milioni di euro intanto l'ex consigliere Michele Rossi ha avviato una petizione affinché gli importanti resti archeologici che sono emersi durante le operazioni di scavo siano non solo preservati ma anche resi visibili e non nuovamente interrati si tratterebbe di resti sia di epoca romana sia medievale la faccenda è attualmente in fase di studio poiché la possibile installazione di pedane protettive in vetro è subordinata alla concreta possibilità di installarle senza compromettere la stabilità e l'integrità delle strutture emerse l'amministrazione si è detta disponibile a dare seguito alla richiesta di valorizzazione del patrimonio archeologico emerso la regione Umbria, l'ETG di Rimini, ha portato due grandi progetti il VADEMECUM, accessibilità e fruibilità dei cammini un metodo di lavoro e il progetto Trasimeno per tutti vediamo il servizio un programma intenso con più di 16 eventi ospitati in uno stand di 425 metri quadri 32 operatori turistici che hanno illustrato le loro proposte in merito all'accoglienza e alla recittività due nuovi grandi progetti all'insegna di un turismo sostenibile, accessibile e rispettoso dell'ambiente c'è tutto il bello dell'Umbria alla TTG Travel Experience di Rimini due progetti portati dalla regione VADEMECUM accessibilità e fruibilità dei cammini un metodo di lavoro e Trasimeno per tutti il VADEMECUM rappresenta un passo fondamentale per garantire l'accessibilità dei cammini naturalistici e culturali a persone con disabilità e con esigenze specifiche si aggiunge il progetto Trasimeno per tutti che ha come obiettivo il dar vita ad un sistema turistico accessibile ed inclusivo del lago Trasimeno coerente con la convenzione dei diritti delle persone con disabilità e che possa fare da apripista e da modello anche per altri territori umbri il progetto non ha riguardato solo l'aspetto materiale dei fabbisogni del territorio ma anche quello legato alle esigenze della formazione di numerose figure tra cui dipendenti dei comuni ma anche di coloro che lavorano nel settore turistico si è intervenuti anche sull'inserimento lavorativo e la promozione di imprese inclusive in collaborazione con ARPAL, Umbria e tramite vari avvisi pubblici sono stati selezionati 10 enti ospitanti tra imprese del settore turistico del lago Trasimeno e altri soggetti pubblici coinvolti nel progetto in più sono stati individuati 10 giovani con disabilità per partecipare a tirocini extracurriculari con l'obiettivo di sviluppare competenze professionali nel settore turistico alla Fiera di Rimini è stato presentato alla Fiera del Turismo un nuovo accordo che avvicina due delle più importanti attrazioni Umbre la Cascata delle Marmore e il Pozzo di San Patrizio di Orvieto l'iniziativa prevede sconti reciproci per i visitatori con l'obiettivo di creare un'offerta turistica integrata vediamo il servizio alla 61esima edizione del TTG Travel Experience di Rimini manifestazione di riferimento per la promozione turistica è stato presentato un accordo di collaborazione tra due dei siti turistici più iconici dell'Umbria la Cascata delle Marmore e il Pozzo di San Patrizio di Orvieto l'intesa prevede una reciproca scontistica per i visitatori che potranno usufruire di un biglietto ridotto visitando entrambi i luoghi l'accordo presentato dai rappresentanti delle città di Orvieto e Terni e dall'assessore regionale al turismo Paola Agabiti punta a rafforzare la promozione turistica congiunta della provincia di Terni creando una sinergia tra due attrazioni che insieme contano circa 750.000 visitatori l'anno l'acqua, elemento simbolico e comune ai due siti, gioca un ruolo chiave in questa iniziativa che mira anche a rilanciare i temi della sostenibilità il Pozzo di San Patrizio e il Museo Idra di Terni sono infatti parte della rete dei musei dell'acqua dell'UNESCO sul piano storico i due siti sono anche collegati dall'opera dell'architetto Antonio da Sangallo il Giovane che progettò sia il Pozzo di Orvieto sia uno dei canali della Cascata oltre a migliorare l'offerta turistica l'accordo mira a prolungare la permanenza dei visitatori in Umbria promuovendo itinerari che uniscano le città della regione Orvieto inoltre sta ampliando la sua offerta nel settore outdoor con percorsi di trekking e ciclismo che attraversano borghe e paesaggi naturali come il Montepeglia e la Forra di Prodo un'iniziativa che si inserisce nel progetto Orvieto Experience pensato per offrire ai turisti un'esperienza a 360 gradi Una conferenza sulle politiche attive a contrasto delle crisi aziendali e al sostegno del capitale umano si è tenuta all'Hotel Valentino alla presenza di numerosi politici e autorità del territorio Scopriamo tutto nel prossimo servizio Si è tenuta all'Hotel Valentino una conferenza dal titolo Orientamento e politiche attive a contrasto delle crisi aziendali e al sostegno del capitale umano Il fulcro della discussione è stato il programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori uno strumento chiave per migliorare l'occupabilità delle persone con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili Oggi parleremo di politiche attive sul lavoro La Regione è stata molto attenta a questo tema Ricordo che nel 2021 abbiamo rivisto la legge, la 1 del 2018 Abbiamo apportato comunque la legge delle modifiche estremamente importanti anche al sostegno delle categorie più deboli Quindi oggi parleremo di questo Parleremo della legge che è stata revisionata Parleremo delle crisi aziendali che chiaramente riguardano anche i nostri territori e parleremo di tutte le politiche attive del lavoro Senta, come si può prevenire un'emergenza di un'azienda? Ad esempio, pensiamo al Covid Non era preventivabile Come si fa a far fronte poi a dei disagi così grandi? Ricordo a tutti che la revisione della legge proprio la 1 del 2018 che è stata la revisione dell'ARPA sostanzialmente è intervenuta proprio successivamente a un periodo di crisi Quindi interviene perché dobbiamo dare delle risposte necessariamente a momenti particolarmente difficili e con quello effettivamente una mano l'abbiamo data perché si è rivista tutta quanta la legge mettendo al paro le agenzie formative con i centri per l'impiego in una sinergia che ha dato sicuramente risposte maggiori a coloro che ne avevano necessità Non è molto semplice, però in questo caso l'Europa ci ha aiuto molto perché l'Europa con i fondi proprio sulle politiche attive del lavoro ha messo tantissimi soldi e la regione deve avere le capacità di far fruttare al meglio queste risorse che possono ricadere su territorio Si è tenuto anche un focus sull'importanza dell'orientamento educativo e dell'accompagnamento al lavoro con l'intento di sviluppare competenze trasversali che permettano ai cittadini di muoversi efficacemente nel contesto professionale e nella ricerca attiva di un impiego Domani, sabato 12 ottobre alle ore 18 si terrà presso il BCT Lab di Terni in Piazza della Repubblica l'inaugurazione della mostra dell'artista ternana Liviana Sinibaldi intitolata La metamorfosi del pensiero L'esposizione sarà visitabile dal 12 al 20 ottobre tutti i giorni dalle ore 11 alle 13 e dalle 17 alle 20 Liviana Sinibaldi è una scultrice affermata da decenni destinataria di numerosi riconoscimenti e ha già esposto le sue opere anche a Firenze, Roma e Torino Più recentemente ha assunto l'incarico di curatrice artistica del Museo Diocesano di Terni insieme a Massimo Picchiami L'associazione Lights for Cinzia premia i giovani al primo concorso per cortometraggi sul tema l'incontro L'evento si terrà domani 12 ottobre presso la Pinacoteca di Amelia Vediamo il servizio Domani 12 ottobre presso la Pinacoteca di Amelia si terrà la prima edizione del concorso Lights for Cinzia dal tema l'incontro indetto dall'associazione nata nel ricordo di Cinzia Stamigna Amerina Doc appassionata di cinema recentemente scomparsa A partire dalle 17.30 inizierà la cerimonia di premiazione I cortometraggi sono stati prescelti da una giuria di professionisti nel campo del cinema e del teatro presieduta dal regista Daniele Lucchetti A contendersi la vittoria saranno Cerchi nel tempo di Clarissa Mirabasso Per gioco di Emanuele Tesoro e Haider di Paolo Arcangeli Tra i numerosi premi in denaro per il primo classificato ci sarà anche un premio speciale ovvero la possibilità di uno stage di tre mesi presso la nostra emittente AM Terni Television Un altro premio speciale sarà invece consegnato al cortometraggio con il maggior numero di preferenze ricevute sui social I componenti della giuria saranno Irene Ceccon, Caterina Venturini, Marco Luca Cattaneo, Michelangelo Garrone, Massimo Manini, Fabrizio Razza ed il presidente sarà Daniele Lucchetti collegato online Anche l'Umbria in questi giorni è interessata da tipici fenomeni celesti Intanto il brillamento solare di ingente entità che nella notte tra il 10 e l'11 ha generato aurore boreali visibili a latitudini in cui normalmente non si verificano purtroppo nella nostra regione il cielo era coperto quasi ovunque e in pochi sono riusciti a scorgere chiaramente le bande rossastre all'orizzonte Stasera il fenomeno dovrebbe essere ancora visibile fino al 12 ottobre Inoltre sarà possibile osservare, ma ci vuole un po' di pazienza ed esperienza una cometa in transito Si tratta del passaggio più luminoso degli ultimi anni Ciononostante il suo bagliore è piuttosto fioco e bisognerà cercare dei luoghi poco illuminati per riuscire a vederla La zona in cui puntare lo sguardo è quella del tramonto in direzione ovest Mi raccomando, tutti puntati Noi ci fermiamo solo qualche istante e poi torniamo con l'approfondimento sportivo A tra poco Siamo pronti per la pagina sportiva Fabio Tito al 90% non ci sarà domenica sera contro Lascoli Al suo posto uno tra Bruno Martella e Alessio Maestrelli Mister Ignazio Abbate ci sta pensando Facciamo il punto nel servizio Con ogni probabilità Ignazio Abbate dovrà fare a meno domenica sera contro Lascoli del suo terzino sinistro titolare Fabio Tito infatti ha le prese con un risentimento al muscolo pettino della coscia sinistra lamentato al termine della gara con il campo basso E così per la seconda volta in queste nove giornate di campionato l'ex Avellino non sarà al suo posto a completare la linea difensiva a quattro delle fere Ecco allora che si aprono i casting per trovare il sostituto migliore Due sono i papabili per prendere il posto del terzino C'è Bruno Martella specialista nel ruolo e Alessio Maestrelli un centrale difensivo che può aggiustare anche sulla coscia esterna Per quanto riguarda Martella va detto che Abbate in questo inizio di campionato lo ha utilizzato soltanto a gara in corso e come esterno sinistro alto al posto di Cicerelli Discorso diverso invece per Maestrelli che il terzino sinistro l'ha già fatto in questa stagione nell'incredibile partita vinta dalle fere 8-0 liberati contro il Legnaco E così la possibilità di vedere l'ex Turris in campo dal primo minuto anche contro l'Ascoli sono molto alte con Martella che invece potrebbe continuare a rappresentare una valida alternativa a partita in corso Sabrina Vannini, atleta degli Arcieri Città di Terni, ha conquistato due medaglie d'oro ai recenti mondiali 3D Il servizio Sabrina Vannini ha scritto un'altra incredibile pagina del tiro con l'arco 3D italiano L'atleta degli Arcieri Città di Terni ha conquistato due medaglie d'oro ai mondiali di Mocrice in Slovenia Sabrina si è laureata campionessa del mondo nel 3D Traditional, sia nell'individuale che a squadre Sono contentissima, il doppio oro mi ripaga dei tanti sacrifici fatti È stato un percorso bellissimo, sofferto, difficile che alla fine mi ha regalato delle grandissime soddisfazioni ha commentato l'atleta Il primo oro per Sabrina Vannini è arrivato con la squadra femminile formata oltre che da lei anche da Luana Bassi, Irene Franchini e Cinzia Nozziglia che con una prova superlativa hanno battuto l'Austria 150-131 Il secondo, come detto, è arrivato nell'individuale con Sabrina Vannini che ha battuto in finale Michela Donati con un netto 70-58 Soddisfatto il presidente degli Arcieri Città di Terni Stefano Tombesi Sabrina è un esempio virtuoso per tutti coloro che amano il nostro sport e noi siamo orgogliosi ed onorati di poterla annoverare tra i nostri atleti Intanto oggi alle ore 16 prima ufficiale conferenza del patron della Ternana D'Alessandro AM Eterni Television seguirà in diretta tutta l'intera conferenza quindi collegatevi a partire dalle ore 16 Questa era l'ultima notizia per il momento è tutto Io mi fermo qui e vi do appuntamento ai prossimi notiziari di AM Eterni Television Buon proseguimento Grazie a tutti